Adesso andiamo a Bianco dove sono state consegnate borse di studio e computer agli studenti meritevoli della Locride. L'iniziativa si svolta nell'ambito del Terzo Memorial intitolato al compianto educatore Paolo Mussolino, abilissimo giocatore di scacchi, in servizio di Antonio Condò. Con la cerimonia di consegne delle borse di studio ad alunni delle scuole elementari e di computers ad alunni delle scuole medie della Locride, si è concluso sul lungomare di Bianco il Terzo Memorial Paolo Mussolino dal nome del compianto insegnante, grande esempio di educatore e valente giocatore di scacchi. Nell'ambito della manifestazione la consegna delle borse di studio è stata preceduta proprio da un torneo amatoriale di scacchi che ha visto esibirsi tanti bambini e da quello master internazionale in cui hanno partecipato veri giganti mondiali del settore. Ai primi posti uno slavo e un serbo, organizzata dall'Associazione Memorial Paolo Mussolino, preseduta dal figlio dell'insegnante schiacchista Antonino, la serata è stata presentata da Pino Gagliano. Sul palco sono saliti per essere premiati gli allievi delle scuole della Locride ritenuti meritevoli dei riconoscimenti, intitolati a persone care e scomparse e messe in palio dai congiunti di queste, presentati per l'opportuna degustazione e a fine di beneficenza alcuni prodotti tipici offerti da 30 aziende del comprensorio. Molte le autorità istituzionali che hanno manifestato apprezzamento per l'iniziativa, tra queste i presidenti della Repubblica e del Consiglio dei Ministri. Intanto gli organizzatori pensano già alla quarta edizione 2010 del Memorial Mussolino, è stato infatti stabilito che vengano assegnati premi anche ad alunni delle scuole dei 33 comuni della Piana di Gioia d'Auro.